Ecco qui, questa cuccia aspetta di essere adottata, guardate, è nuova questa qua, la cuccia è aprita, si apre e si chiude. Guarda, sotto, in ottimo stato, qui c'è anche l'ingresso, ecco qui, vedete, c'è il tappeto, ci sono le cose per mangiare, questa cuccia aspetta di essere adottata, qualche cano fortunato, cano, cagnolina, Adesso vi faccio vedere, praticamente è una cucciola, una cuccia per cani, in ottimo stato, questo è l'ingresso, vedete, c'è anche il tappetino, è pura scelta, guardate, si apre, e si chiude, ottima, ma la cosa strana è che questa si trova in ottimo stato, eccola qui, è ancora più strano, incredibile, che si trova, esattamente qui sono nei dieci metri, di distanza dal sentiero che conduce al Monte Pena, ecco qui, vedete, dunque passa, vabbè, io adesso vado al Monte Pena, bello scucio il nocci.